Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars. Se vi state chiedendo che fine hanno fatto i miei bling, beh lo scoprirete molto presto nel video probabilmente di domani. Oggi ho una piccola chicchetta per voi, ma che dà proprio il via a le teorie, le peggio teorie, perché calendario alla mano, vi ricordo la nostra prediction del prossimo Brawl Talk, è previsto per uno degli ultimi tre sabati di giugno, ok? E visto che probabilmente molti di voi vedranno questo video a giugno, beh il mese sta per cominciare, io sto recando questo video il 30 per la precisione di maggio, e quindi si crea quel periodo in cui cominciano a uscire informazioni. Quelle di oggi, diciamo sono informazioni nuove, è un modo nuovo che Brawl Stars ha per darci qualche spoilerino. Quindi vi faccio subito vedere quella che è la notizia del giorno, poi vi spiego perché in lobby ho una colette a 560 coppe, tra l'altro imbarazzante. Ovviamente prima di cominciare vi chiedo subito un bel pollicione in su, ragazzi, se siete anche solo poco poco il naip per quest'update che si avvicina sempre di più, l'iscrizione al canale per mani aggiornati su tutti gli sneak peek, Brawl Talk, tutto quello che uscirà, arriverà a teorie, insomma tutto come sempre, e ragazzi, codice Farring to the shop. Non dimenticatelo. Ok, ragazzi, Twitter, per la precisione Twitter di Frank, e questa è l'ultima immagine che ha postato. C'è lui con un microfono davanti, tra l'altro è il mio stesso microfono se ci fate caso, ha una pianta dietro, ha questa maglia che credo non voglia dire niente, ma c'è questa ambientazione che a molti di voi magari potrebbe già essere familiare, lui twitta dicendo cosa sto facendo in questa foto, sono risposte sbagliate e nei commenti c'è giustamente gente che dice che scrive qualsiasi cosa, ma il fatto è, ragazzi, che senza girarci molto intorno, Frank probabilmente sta registrando il secondo episodio di Time to Explain, che è stato sottovalutatissimo l'ultima volta, parere mio, ma in realtà è una miniera di informazioni, infatti su quello abbiamo basato il video delle teorie, che è uscito poi poco dopo, e sul quale abbiamo parlato di un botto di roba, ragazzi, e probabilmente sarà la base anche del prossimo Brawl Teorie, neanche Brawl Teorie, il video delle attese, mi correggo subito, il video delle attese, quindi proprio quel video che facciamo per mettere insieme tutti i tasselli e per dire ecco cosa probabilmente vedremo nel Brawl Talk. Comunque da cosa lo capisco? Banalmente è il fatto che basta andare a vedere Time to Explain nel primo episodio e lo scenario è quello, ma abbiamo un'ulteriore prova del 9, perché se andate a vedere il primo episodio di Time to Explain, nel podcast c'era anche Adrian, uno degli sviluppatori, che se andiamo a cercare su Twitter, ragazzi, indovinate un po', eccolo qua, se andiamo a cercare lui, indovinate un po', eccolo lì, cioè qua è proprio palese, qua è proprio palese, ragazzi, a parte che ha una felpa Supercell bianca con scritta nera, bellissima, anche lui stesso identico microfono, ok, e stesso identico tavolo di Time to Explain, cioè questo è proprio palese, dietro si vedono tutte le videocamere, la gente pronta a registrare, e qua tra l'altro c'è tipo una sorta di logo di Brawl Stars scuro, quello non capisco bene cosa sia, ah potrebbe essere l'insegna che c'era sul tavolo e vista da dietro, ah che figata, eh in quelli studios di Supercell chissà cosa non c'è, insomma è palese che stiano lavorando a questo tipo di video, io vi ricordo che avevo realizzato anche un video sintesi, di quello che era stato l'episodio precedente di Time to Explain, e avevano risposto a un sacco di domande, avevo preso le salienti tradotte, cioè avevo fatto un video dove spiegavo tutto, andatelo a recuperare così capite Time to Explain effettivamente che valore ha, cioè è un qualcosa dove in un modo o nell'altro spoilerano ragazzi, perché rispondono proprio le domande della community, quindi in un modo o nell'altro spoilereranno di brutto, non vedo l'ora di vedere questo episodio, e ovviamente io faccio questo video anche per consigliarvi, di andare poi a fare voi le vostre domande in Time to Explain, soprattutto sono curioso di vedere cosa risponderanno, perché gli lo chiederanno sicuramente al discorso ladder, al discorso ladder ragazzi quel, oddio quel casino che è successo voglio vedere cosa diranno, può essere un'arma a doppio taglio quel format veramente, comunque a proposito di questo rework della ladder, arriviamo a spiegare un pochettino cosa ci faccio qua con Colette, ragazzi la tocco molto 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 piano e ve lo dico, Colette è il mio brawler più basso, vabbè escluso Stu che resterà a zero coppia ve lo anticipo, Colette ragazzi è il mio brawler più basso, oggi c'è una bella mappa di rapina, dove Colette può essere un bel mid, c'ho anche la missione da fare rapina, quindi si pescano due sabbini in questo video dalla live e si gioca insieme e si puscia insieme e si comincia a scalare, piano piano la tocchiamo piano ma si comincia, vediamo cos'è esce fuori, cominciamo a invitare qualcuno, allora abbiamo Luca il figo e Draghetto, allora faccio le comp, dai buttiamoci, ovviamente Colette e mid, voi siete lane, ragazzi cercate di capire bene la lane su cui andare, mi raccomando, partiamo da 560 coppe, partiamo con Colette e vediamo dove riusciamo a portarla ragazzi, è tutto un gran mistero sinceramente, vediamo un po' cosa troviamo di bello, parte subito una bella hit, ok attenzione qua, ok abbiamo pareggiato ma un po' di danni me li ha fatti, Draghetto ha vinto la lane, top, ok attenzione al Griff che è un po' un problema, mi rendo conto per il Beryl, allora devo stare un pochettino più attento con la Colette, perché mi sono fatto un pochettino sciogliere male, ok attenzione, bello, bello, bello ci sta, ok togliamo subito la torretta, easy, allora ognuno la sua lane per favore ragazzi, ognuno la sua lane please, ok, l'ideale sarebbe avere il Beryl sulla lane del Daina, ma non si può aver tutto dalla vita, mi rendo conto eh, ok qua ho fatto una grandissima cacchiata, ok questa è una gran giocata, ok top, in realtà potevo anche farla molto prima alla ulti, perché la cassa era one shot, ma va bene, allora come primo game, ci sta, ci sta, siamo anche molto bassi, continuiamo così, vediamo un pochettino dove ci porta il cuore, ok, potrei cambiare setup con Colette, vedo già, ci vedo già uno scudo, ma per adesso continuiamo così, ci vediamo tra poco, allora, dobbiamo fare un po' di cambiamenti qua, Colette la facciamo al livello successivo ragazzi, perché sto beccando solo dei livelli 11, e patisco quei livelli nemmeno, ci diamo tranquillamente uno spot per questa mappa, ok, perché ci sta qua, e quasi quasi anche il danno, lo cambio con lo scudo, sai, la facciamo un po' più solidina, facciamo così, tic in rapina zi, mi piange già il cuore solo vederlo, non inventiamoci delle robe strane, metti dynamite piuttosto, allora sembrerebbe che abbiamo trovato una quadra, sembrerebbe, dobbiamo cercare di tenere comunque un po' di focus, siamo in rapina, quindi si gioca un attimo in ignoranti, mi raccomando, non troppo puliti, non troppo puliti, ok, attenzione al Carlito, smolesto, ok, buonissimo, quel dynamite non lo sa neanche lui come ha fatto a pigliarmi, ok, buona, ci sta tutto, possiamo salire, belli danni, belli danni, c'ho la ulti, c'ho il gadget, c'ho qualunque roba, allora, una ulti qua te la prendi tutta, e poi ti prendi anche un gadget, e un'altra ulti, ok, e abbiamo bello che è chiuso, top, ragazzi, top, top, bella la ulti di Colette, allora ragazzi, ultima per le 600, così, cominciamo a fare, un picco, invittare, una piccola, piccola soglia di coppe, cominciamo a fare qualcosina, cerchiamo di integrare i content, qualche push ogni tanto, vediamo se l'idea vi piace, il Colette è uno dei brawler che era più basso, non a caso ragazzi, uno dei brawler con cui mi trovo peggio, ecco, è molto competitiva, è molto forte, ma io non mi ci trovo bene, l'ho già detto diverse volte, ecco, qua abbiamo una Nita, Nita bisogna stare attenti, non va fiddata ragazzi, eh, attenzione, ecca là, è il Dynamod lo devo lasciare, devo provare a togliere ora, non ci credo che non l'ho tolto, ok, l'ha tolto il draghetto, bravo, allora, c'è quella Nita sempre un po' pericolosa, un po' pericolante, vediamo se riusciamo a spottarla, ok, qua c'è il Mo' Colt, attenzione, sempre alla Nita, il Colt lo togliamo, andiamo a fare due hit, al volo così, proprio, ok, ancora, attenzione, attenzione, bella lì la ulti, bellissima, ok, dai, 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 saliamo ora, tanto ragazzi, i danni bisogna farli così, ok, calmissimi, calmissimi, andiamo pure così, ok, facciamoci pure una ulti, tanto schiviamo la sua, ok, ci spariamo una hit lì, va bene, e chiudiamo tutto, no, ma no, ma come ha fatto, non ci posso credere, non ci posso credere, a 600 coppe, però ci riesce già a far perdere, incredibile, vediamo se riusciamo a recuperare, sempre Anita e Jesse, bro, che non vanno fiddati, raga, ok, attenzione, attenzionessima, non attenzione, attenzionissima, proprio, ok, tiriamoci una bella ulti, veloce, dà già la miseria, mi killa, uh, ok, ok, buono, 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 pigliamo tutto, sì, tolta la torretta subito, va bene, va bene, va bene, va bene, let's go, ho fatto un po' di danni, ci sta, eccolo lì, ho fatto una cavolatona, ho fatto una cavolatona, ok, bellissimo, bravi ragazzi, riproviamo a hitare S600, una coppa manca, tra l'altro, dai, la scorsa partita la lascerai per il content, eh sì, la lascerò per il content, mannaggia, ok ragazzi, partiamo carichi, subito sul mid, let's go, ok, tiriamo subito un paio di hit, una cosa abbiamo preso, attenzione, c'è un 8 bit molesto, che, me ne sto, perché è tipo, il brawler che countero meglio nella vita, ok, tiriamoci su, no, ho tirato le hit in auto aim, scusate, scusate, ho tirato il gadget in auto aim sulla cassa, potevo usarlo, 6 tavoli agli avversari per rimanere in vita, mi facevo una ulti, facevo un pacco di danni, attenzione, ho spottato sempre qualcosina là, ok, ok, facciamo così, perfetto, let's go, ragazzi, easy, ci credo, sono 600 coppe, easy, 600 coppe, ce le portiamo a casa, e, adesso il prossimo brawler più basso, è lui, Jean, signori, eh, ne parleremo di lui, in un prossimo episodio, intanto abbiamo anche portato un livello 11, insomma, abbiamo aggiunto un qualcosina oltre le news del giorno, signori, noi ci becchiamo alla prossima, un saluto da tutti, e, ciao belli!